Cremino e cheesecake. Doppia panna. Certo, beh. Ci dobbiamo mantenere in linea. Un gelato proprio squisito. Io non lo cambio con nessuno. Ricotte e fichi e cremino al pistacchio. Fantasticamente buono. Qui sono nato io. È la prima volta che vengo a Morfetto, ho visto la gelateria piena, perché sarà buono. Molto buono, artigianale, un gelato artigianale proprio. Con quel top dei top. Abbiamo preso due al pistacchio, due alla nocciola, uno con gattina rum e due al fior di latte. La dieta. Colato, caffè, non ricordo questo gusto. Io ho 71 anni. Ottimo. Noi siamo di lungo, praticamente veniamo spesso qui a prendi gelato da San Marco. Eccezionale. Allora, cioccolato e fior di latte, semplicemente perché io adoro i gusti semplici. E lo facciamo tutte le serie. Cioccolato, panna e sfatis. Basta che c'è la cioccolata. No, non come il pistacchio. No, come il pistacchio. Il cioccolato, puoi andare a casa a mangiare il cioccolato, il pistacchio. È una tradizione, tradizione da bambina proprio. È un peccato non mangiare nè di più. Ho preso il bellone e l'ananas. Oggi ho preso pistacchio e caffè e panna, doppia panna. Però da anni, da anni, non lo cambierai con nessuno. Io ne ho provati di tanti, questo è il migliore. Da sempre vengo qui e mi sono sempre trovata bene e vuol dire anche sicurezza. È una certezza. Un ghiazzata forte, forte buona. È particolare. Il migliore. Non cambierei mai. Eccezionale. Sembra che il pistacchio è fatto solo per il gelato. Buonissimo. Il porretto da cioccolato, con la ciliega. Il mai è un gelato unico. San Marco è unico. Ma con la scusa della passeggiata, è un gelato da San Marco che... È un grosso l'occhiello.